Salam, man, Alfredo Anza. Salam, hubi, esbe man, Antone Loa. Salam, man, Carla e Telliniazda. Baxoaram che ironia è da rumzen degli... ...che mi hanno colpito del corso di persiano dell'Istituto Culturale Iranian. Sono stata l'atmosfera cordiale con la quale sono stata. Ma l'Iran farà anche, ma d'abbiate, iranie, gelidus, d'Arabi. Salome, farsi, rodar, in, muassese, yod, biarretà. Ma non abbiamo visto la parola di quattro, però adesso sono presi nella trascrizione, ovviamente. Adesso vi faccio vedere come si perfessiamo. La lettera si chiama EIN. E vuole a sapere. Ho deciso già da tempo di frequentare le lezioni dell'Istituto Iraniano di Cultura, che, devo dire, sono state estremamente valide, sia da un punto di vista didattico che soprattutto dal punto di vista umano. Ogni volta che vado lì è un piacere, sia perché imparo qualcosa, sia soprattutto per l'ambiente che è possibile ricreare. Veramente un grazie. Ho avuto modo di imparare il farsi e di conoscere persone simpatiche e pietanze tanto buone presso l'Istituto Culturale Iraniano. Saluti. Saluti.